I monti della prefettura di Saga, dove è avvenuto l'incidente al pilota francese André Giappi, che ha stroncato la trasvolata aerea Parigi-Tokio per la quale il ministero francese dell'aria aveva stanziato un premio di 65.000 franchi. L'apparecchio è andato distrutto, il pilota invece se l'è cavata con poche ferite giudicate guaribili in quattro settimane e sarà decorato della legion d'onore in riconoscimento del suo sfortunato ardimento. Grazie